Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio della Biogen Tech. Oggi un esperimento particolare, una nuova versione di quello che sarà poi alla fine un formato di video che ho intenzione di fare, con slide e con presentazioni per rendere più interattiva quelle che sono appunto vere e proprie lezioni. Comunque si avvicinano a una divulgazione molto più simile a una lezione. Dato il periodo di festa, quindi, vando alle ciance, voglio parlare di nuovo in questo speciale natalizio e di fine anno delle festività e aumento di peso, con le variabili ovviamente di popolazione a metodo di gestione alimentare, per evitare quei problemi, problemi tra virgolette, perché poi vedremo che non interessano tutta la popolazione, e che possono appunto essere gestiti facilmente. Ora, come vediamo qui nell'introduzione, abbiamo che l'aumento di peso derivato dagli eccessi calorici e delle festività non è un problema in sé, almeno per una certa parte della popolazione, anche se la maggior parte, per la maggior parte della popolazione lo è, ovviamente. Ovviamente, e parlo non soltanto dei sedentari, ma anche di quelli sportivi, sporadici, quelli che vanno in palestra così tanto per, ok? Che non hanno una programmazione, una gestione alimentare soprattutto, né tanto meno di quello che fanno in palestra. E vediamo anche che uno studio ha rivelato che le persone ingrassano in media del 500% in più a settimana durante le vacanze rispetto alle settimane non festive, con una perdita di peso media solo per le persone più costanti, cioè quelle che comunque riescono ad essere più lìge nel controllo calorico di quello che mangiano. Ok, ovviamente. Le osservazioni simili sono state fatte con le persone iscritte al Diabetes Prevention Program e i soggetti che mantengono con successo la perdita di peso nel National Wage Control Registry che appunto mostrano molto più autocontrollo in quello che mangiano, perché sono anche stati ex obesi e riescono a controllare appunto quello che ingeriscono senza strafare rispetto a chi non è mai stato bene in vita sua e avere delle variabili di peso molto più controllate e molto più risolvibili nel breve periodo rispetto all'altra fetta di popolazione mai stata obesa. La maggior parte delle persone non vuole tenere traccia della situazione di cibo, è ovvio, non è che vai in vacanza, cioè vai in vacanza, vai al pranzo, ai parenti, alla cena e ti metti lì a calcolare cosa devi mangiare o cosa non devi mangiare, però bisogna avere comunque una certa coscienza di quello che si ingerisce, nonostante cibi iperpalatabili e richi di calorie. Le feste ovviamente sono un momento di piacere e di indulgenza, quindi bisogna anche viverle in quel modo, senza esagerare ovviamente. Per questo motivo la maggior parte delle persone ingrassa in modo maggiore rispetto al resto dell'anno, ma purtroppo questo aumento di peso non viene poi risolto e si accumula nel corso degli anni. Quindi cosa fare? Ora, in alternativa al controllo diretto tracciamento di ciò che si mangia, potrebbe essere applicata la scelta di concentrarsi sul consumo di alimenti che riducono indirettamente l'introico calorico, quindi che aumentano la sazietà, che provocano il rallentamento gastrico per esempio, no? Quindi, per fare un esempio, ci sono solo 25 studi che hanno valutato i cambiamenti della composizione corporea durante i periodi di sovralimentazione, di cui 13 riportano semplicemente ciò che accade quando le persone sedentari mangiano il 40-60% delle calorie in più nel mantenimento rispetto alle settimane e mesi, che ovviamente ingrassano. Tre studi però hanno confrontato la sovralimentazione di grassi con quelle di carboidrati per 2-3 settimane, quindi nel breve periodo. Uno studio ha esaminato gli effetti del consumo di bevande a base di glucosio e fruttosio, puro, e un altro ha confruttato la sovralimentazione di grassi saturi, olio di palma, e o quelle di grassi polinsaturi, olio di girassone. Qui praticamente acido oleico, linoleico. Nel complesso, le differenze tra i gruppi, per quanto riguarda i cambiamenti nella composizione corporea, sono state minime e non statisticamente significative, ovviamente, le calorie sono sempre a base, ragazzi miei. L'unica eccezione però, ed è questa interessante, è stata la sovralimentazione con grassi saturi, che ha portato a un aumento del grasso significativamente maggiore rispetto alla sovralimentazione con i grassi polinsaturi. E parliamo dell'81% contro il 50% dell'aumento del peso totale come massa grassa, ovviamente, con tutti i difetti dello studio. E' ovvio che, metabolicamente parlando, come distretto di deposito, o come utilizzo, ci possono essere delle variabili tra i due. Ma questo è un altro discorso. Per questo, questi dati li prenderei abbastanza con le pinze, alla leggere. Sette studi hanno confrontato la sovralimentazione con diverse quantità di proteine. Due di questi sono stati condotti su adulti sedentari. Uno riportato che il consumo di 2,4 grammi chilo ha determinato un aumento di grasso significativamente inferiore rispetto al consumo di 1,2 o 1,7 grammi chilo. Preso corporeo, ovviamente. E hanno avuto effetti simili. L'altro studio, invece, ha rivelato che l'aumento di grasso tra 0,7, 1,8 e 3 grammi chilo era lo stesso, con la differenza che la massa priva di grasso, cioè quella magra, aumentava solo nei gruppi da 1,8 e 3 grammi chilo. Quest'ultimo studio era uno studio di alimentazione controllata, il che potrebbe spiegare la discrepanza, quindi era più preciso. Negli atleti? Beh, qui abbiamo uno studio sugli atleti. almeno uno o cinque. Cinque studi che sono stati fatti su condotti su popolazioni atletiche e, cosa che ci interessa maggiormente a noi, che si allenavano regolarmente contro resistenza, in tutti questi studi, tranne uno, le persone aumentavano le calorie esclusivamente attraverso l'aumento dell'assunzione proteica. sia sotto forma di alimenti interi, quindi bistecche, pesce, eccetera, che dice che, qui c'è un errore di grammatica, vabbè, proteici, a seconda di ciò che era più conveniente per il partecipante, a gusto. E tutti questi studi hanno riportato che l'eccesso di proteine con assunzione da 2,4 a 4,4 grammi chilo di peso corporeo, rispetto a 1,2,4 grammi chilo, sempre di peso corporeo, non ha avuto alcun effetto sulla massa grassa, in acuto, uguale d'autore significativamente la massa grassa, nonostante l'aumento di mossa magra. Questo aumento di massa magra sarà l'aumento dei libidi più che altro. Vi sono altre accortezze applicabili? Ovviamente. Una, per esempio, la più comune è la riduzione dell'introito calorico nelle 24 ore precedenti e successive il giorno nel quale si svolgerà il pranzo o cena festivo. Quindi, il giorno prima si taglia un 500 calorie, più o meno 500 calorie o più, e nel giorno successivo ha l'alimentazione sovralimentazione e altre 500 calorie. Ovviamente, sarà un aumento di 1000 calorie, poi bisogna vedere il basale, bisogna vedere cosa si mangerà, ma ci si è giusta su questa base. Poi c'è l'assunzione di fibre prima del passo sotto forma di integratore, esempio, glucolo mannano o consumo di porzioni di verdure come prima contata. E ovvio, anche in questo discorso qui, in questo caso, viene un po' difficile andare da nonna, a zia, o dai parenti in generale, dire, guarda, ma mangi un'insalata prima di mangiare la procedura, è un po' più complesso. Sicuramente, l'introduzione di qualche grammo di glucolo mannano potrebbe essere una soluzione, se viene adottata una strategia di questo genere, aumenta la sazietà in senso di riempimento gastrico e intestinale, quindi, gastrointestinale, di conseguenza, rallentamento intestinale e può aiutare a mangiare di meno. E poi c'è l'assunzione di calorie blocker. Prima, dei pranzo, cena, quindi, ovviamente calorie blocker, che parlai già l'altro anno, ne parlai anche dei post, si tratta principalmente dell'Orlistat, venduto commercialmente come Xenical o Beacita, che è un inibitore dalla lipasi pancreatica, riduce del 30%, circa, i grassi alimentari ingeriti, ha quindi una buona efficacia come calorie blocker, poi c'è l'assunzione che può essere di 1-2 grammi di cannella, che ha, che i fitocomposti, che possiede fitocomposti con attività di inibizione di vari enzimi implicati nella digestione di carboidrati, quindi inibitori della milasi, inibitori della saccarasi, inibitori dalla maltasi e anche dalla lattasi, in piccola parte, simile a quello che poi è la carbosio, e piccola parentese della carbosio, vi sconsiglio caldamente di abbinare Orlistat e carbosio perché possono esserci poi di problemi a livello gastrointestinale anche sconosciuti. E poi, c'è vabbè, la metformina che ha, o la berberina che hanno sempre effetti sul, anche, oltre allontando lo svuotamento gastrico, hanno anche effetti sul, sull'inibizione di enzimatica per la gestione di carboidrati come precedentemente accennato e poi c'è la possibilità anche di aggiungere fagiolo bianco, l'estratto di fagiolo bianco, faseolamina che ha un effetto principale sulla, sulla milasi e alcuni inseriscono anche la cargina cambogia che ha un effetto sulla denaro-lipogenesi ma anche quello è molto marginale e poco interessante. Comunque, possono dare problemi gastrointestinali anche abbastanza fastidiosi, gonfiore, flautolenza, disenteria, eccetera. Poi, l'ultimo ovviamente è il semplice controllo sulle porzioni pendente dalla capacità, dalle capacità di autocontrollo del personale. Cioè, se uno riesce ad autocontrollarsi fa sì che assaggia un po' di tutto e rimane comunque con un interno calorico abbastanza controllato. Queste sono le metodiche banalissime che uno può applicare. Per esempio, ma in conclusione concludiamo che dal momento che parliamo di un periodo dell'anno dove si ha intenzione di allentare un po' la presa e concentrare questi cibi solitamente evitati è meglio concentrare più che altro le vostre attenzioni su alimenti ricchi di proteine se potete quindi più sazianti. In questo modo non solo si ha la maggior probabilità di ridurre al minimo aumento di grasso durante la sovralimentazione sempre dovuto più che altro all'effetto di anoresizzante della componente proteica e quindi una riduzione del introito calorico indiretta e involontaria mettiamo la rosè. inoltre la fetta di popolazione della quale fanno parte gli sportivi amatori assidui cioè quelli che prendono assieme a mente che sono ai limiti dell'agonista come in pratica e gli agonisti stessi il problema si risolve da solo nel breve periodo dopo le festività quindi non è che c'è bisogno di far chissà che cosa ci si goda il momento e basta e ovviamente bisogna solamente applicare un po' di testa e non esagerare perché sennò si sta comunque male e per oggi anche abbiamo finito abbiamo fatto questa prova un videoprova vediamo come viene fuori e ci rivediamo una prossima volta ci sentiamo rivediamo vediamo un po' cosa facciamo salve a tutti